Hanno attraccato lì al porticciolo e hanno fatto scendere il loro marinaio. Poi si sono girati un pochino, si sono seduti, si sono guardati intorno per vedere se c'era qualche fotografo, ma i fotografi stavano tutti sul set, quindi hanno capito che tutti i fotografi stavano lì e lì erano tranquilli, mentre invece non sapevano che io ero venuto via, che avevo lasciato il set. Dopo un pochino loro si sono sdraiati sul motoscafo, lui ha cominciato a mettergli della crema brozzante eccetera eccetera, poi a un certo momento si sono avvicinati, lei sdraiata e lui sovraditti di lei quasi, e qui c'è stato il famoso bacio. Grazie. 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 Grazie.